Non è stato certamente un sabato sera tranquillo quello che si è vissuto al ghetto nella zona della Movida. Due gruppi di giovani si sono affrontati con uno dei ragazzi che ha tirato fuori un macete. Paolo Polettio facilizza la sua discesa in campo per le prossime elezioni amministrative e l'ex generale della Guardia di Finanza aderita all'associazione Leali Legali Liberi per Cipitavecchia. Ormai non ci sono più dubbi, il porto croceristico di Fiumicino ci si farà, lo scalo di Cipitavecchia vede quindi profilarsi un pericoloso concorrente in un orizzonte particolarmente vicino. Al via la nuova rubrica Il pensiero dei lunedì, questa settimana approfondimento sulla storia recente della nostra emittente che ha portato al suo organigramma. Torna al successo di Cipitavecchia, Nera Azzurri hanno battuto per 1-0 la Ranova, Altamagnini una vittoria importante arrivata a pochi minuti dal fischio finale grazie al rigore di Vittorini. Bene, ancora una buona serata, ancora un ben sintonizzati sulla nostra emittente per le notizie del nostro telegiornale. Iniziamo subito con l'arrivo della stagione fredda, la cosiddetta malamovida si sposta dal lungomare ai locali del centro. Sabato scorso al Ghetto si sono vissuti momenti di autentico terrore, visto che, stando al racconto di alcuni gestori di locali, due gruppi di giovani si sono fronteggiati e uno dei ragazzi coinvolti ha minacciato gli altri con un coltello di notevoli dimensioni, arrivando a colpire un coetaneo al volto. Qualcuno ha parlato addirittura di un macete, insomma l'ennesima situazione incresciosa e pericolosa nel cuore della città, seguita, a quanto pare, da nuovi episodi di violenza che sono avvenuti poco distante. Sul posto sono intervenute alcune pattuglie dei carabinieri che hanno preceduto all'identificazione di alcuni dei ragazzi coinvolti nelle risse. Era una situazione comunque che preoccupa non poco i residenti e i commercianti della zona, i quali, dopo un periodo di relativa calma nel periodo estivo, temono di dover affrontare una nuova stagione fredda all'insegna della violenza, del chiasso e degli atti vandalici. L'ex generale della Guardia di Finanza e vice capo dei servizi segreti Paolo Poletti ufficializza la sua discesa in campo per le prossime elezioni amministrative. A breve verrà anche indetta una conferenza stampa di presentazione del programma di Leali, Legali, Liberi per Cipita Vecchia. Sentiamo il servizio. Ho ricevuto apprezzamenti da DC, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Sono un candidato civico. Lo afferma l'ex generale della Guardia di Finanza e vice capo dei servizi segreti Paolo Poletti, il quale ufficializza la sua discesa in campo per le prossime elezioni amministrative e annuncia che a breve verrà indetta la conferenza stampa di presentazione del programma. Un intervento quello di Poletti, Cività Vecchiese e Doc, successivo ad alcuni articoli di stampa rispetto ai quali ha voluto fare chiarezza. Capisco la paura del fastidio di qualcuno per l'ipotesi che possa emergere un candidato sindaco fuori dai miserabili giochi politici che stanno mettendo in ginocchio la città e a rischio il lavoro e la vita dei suoi cittadini, si legge in uno dei passaggi dell'intervento nel quale mette al bando chiacchiericce e maldicenze nell'ombra di politicanti più preoccupati di conservare i propri posti di lavoro che quelli dei cittadini. Sotto l'aspetto politico Paolo Poletti spiega di aver aderito all'associazione Leali Legali Liberi per Cività Vecchia e che quindi sarà un candidato civico, ovvero nato nella città e per la città e che quindi guarda la cittadinanza prima che ai partiti. Aggiunge che sarà alternativo quindi alla gestione tedesco, alle liti di cortile che l'hanno condizionata e che finora hanno avuto la meglio e che da civico sta incontrando le forze politiche, le istituzioni, i cittadini per presentarsi e per dire ciò che ha intenzione di fare affinché Cività Vecchia diventi una delle città cardine del Paese. Ancora passi in avanti per il porto turistico e croceristico di Fiumicino che si accinge a diventare un importante e pericoloso concorrente per Cività Vecchia. Nei giorni scorsi è infatti partito l'iter per la procedura relativa alla valutazione di impatto ambientale che si concluderà a metà dicembre. Subito dopo sarebbe la volta dell'apertura dei cantieri. L'opera finanziata interamente con fondi privati costerà circa 600 milioni di euro e nonostante sia stata inserita nelle opere prioritarie per il giubileo del 2015 sarà completata nel decennio successivo. Vediamo. Ormai non ci sono più dubbi il porto croceristico di Fiumicino si farà. Il sindaco del comune aeroportuale Mario Baccini ha infatti presentato richiesta di valutazione di impatto ambientale per l'approdo inserito nel progetto più complessivo riguardante la realizzazione di un porto turistico. L'iniziativa, si legge nel documento, si basa sull'opportunità di introdurre una funzione croceristica all'interno del porto di Fiumicino, Isola Sacra, come variante di un progetto realizzativo di porto turistico che aveva concluso con successo l'iter autorizzativo ambientale. Si aggiunge poi che nel giugno scorso l'opera è stata identificata dal governo come strategica per il giubileo 2025 nell'ambito di intervento accoglienza per i pellegrini e i visitatori ulteriori via di pellegrinaggio e porta di accesso a Roma. Nello specifico viene spiegato che l'approdo turistico sarà destinato ad ospitare circa 1200 posti riservati per le imbarcazioni da di porto, mentre nella parte a terra saranno presenti un parco pubblico, un'area dedicata alla logistica croceristica e ai cantieri nautici e un'area dedicata alle attività commerciali. Per la parte di mare, oltre alla diga foranea, è prevista anche la realizzazione di un molo di spina e che gli elementi andranno ad individuare due bacini. Il primo, denominato bacino traiano, sarà proprio quello dedicato all'ormeggio delle navi da crociera e dei super yacht. Adesso possono essere presentate osservazioni, non oltre il 17 dicembre prossimo, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. I tempi sono strettissimi e per stessa ammissione dei promotori dell'iniziativa, tutta finanziata con fondi privati che arrivano a sfiorare i 600 milioni di euro, l'opera sarà completata ben oltre l'anno santo 2025. Il cronoprogramma dei lavori prevede infatti che a fine 2025 saranno stati completati i dragaggi dei fondali e che l'opera sarà completata nel 2035. Il dado però ormai è tratto e sul versante del crocerismo, uno dei suoi pochissimi traffici inattivo, il porto di Civitavecchia vede profilarsi un pericoloso concorrente in un orizzonte particolarmente vicino. Il sindaco Ernesto Tedesco ha ricevuto nei giorni scorsi a Palazzo del Pincio Alessio Doriano, il ragazzo Civitavecchiese ed appena 21enne dopo un eccellente percorso scolastico all'ISS Luigi Calamatta, settore nautico, è stato immediatamente chiamato dalle più prestigiose compagnie di navigazione. Ad oggi è suo il primato del più giovane ufficiale di coperta. Il primo cittadino si è complimentato con Doriano informandosi dei suoi sogni ancora nel cassetto. Fra questi è quello di diventare capitano di lungo corso su navi da crociera e della marina mercantile. All'incontro ha partecipato anche il consigliere comunale Pasquale Marino che ha sottolineato la preparazione di Doriano acquisita nell'Istituto Calamatta che sta formando numerosi giovani avviandoli con profitto alla carriera marinara. La ASL Roma 4, UOC Servizio Dipendenze e il Comune di Civitavecchia, assessorato alle politiche giovanili, hanno organizzato in stretta collaborazione una giornata di sensibilizzazione su guida e uso di sostanze e alcol. Domani presso l'Aula Consigliare del Comune di Civitavecchia. Obiettivo primario della giornata è informare e sensibilizzare i ragazzi su pericoli e rischi connessi alla guida dopo aver assunto alcol o qualsiasi sostanza stupefacente. Per questi motivi la giornata prevede degli interventi da parte di personale esperto sull'uso di sostanze e di alcol. Il programma prevede dalle ore 9.30 esoluti di Ernesto Tedesco, sindaco di Civitavecchia, Cristina Matranga, direttrice generale della ASL Roma 4, Deborah Zacchei, assessore alle politiche giovanili e Giuseppe Barletta, direttore UOC Servizio Dipendenze. L'Agenzia regionale di protezione civile del Lazio ha emesso un'allerta meteo gialla dalla mattina di domani e per le successive 18-24 ore si prevedono su Lazio e anche su Civitavecchia precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio e temporale con quantitativi accumulati generalmente moderati. Una nuova rubrica sbarca su Tele Civitavecchia si chiama Il pensiero del lunedì e sarà uno spazio presente all'inizio di ogni settimana in cui poter analizzare i fatti più importanti successi fra serietà ed ironia sempre con l'obiettivo di ricercare la verità. In questo primo appuntamento sembra doveroso fare chiarezza sui fatti che hanno portato al nuovo organigramma della nostra emittente. Seguiamo. La battaglia dell'etere Civitavecchiese, così come qualcuno aveva voluto enfaticamente definirla, si è conclusa con la netta affermazione del pensiero della gran parte dei soci lavoratori per volere della stragrande maggioranza dei soci di Tele Civitavecchia. Basterebbero queste poche righe per mandare al macero le tante fregnacce che si sono scritte e sentite in città. L'assemblea del 24 ottobre è stata solo la punta dell'iceberg di un'estate rovente, soprattutto per i soci lavoratori della storica emittente nata il primo settembre del 1979. Lavoratori che con grandi difficoltà hanno continuato a portare avanti la baracca senza percepire lo stipendio per alcuni mesi, a causa delle enormi difficoltà economiche in cui versava TRC. In tutto questo si inseriscono le due proposte, di cui sopra una dell'imprenditore Roberto Serafini e una di Massimiliano Grasso, funzionario pubblico dell'autorità di sistema portuale, nonché titolare del gruppo editoriale Sipres. Due proposte ben distinte e ben diverse, che in questo pensiero del lunedì non vogliamo approfondire per un semplice fatto. perché l'ampia maggioranza dei soci di TRC nella famosa assemblea del 24 ottobre scorso ha scelto, senza sé e senza ma, di bocciare la proposta di Grasso e proseguire invece con quella di Serafini e aggiungere altro è inutile. In quell'ampia maggioranza, aspetto decisamente importante, figurano anche imprenditori e tanti storici lavoratori che nel passato avevano consentito all'emittente di continuare la sua straordinaria avventura e che hanno deciso di dare fiducia alla proposta che più li convinceva sotto vari aspetti, anche e soprattutto per quanto riguarda la possibilità di rimanere liberi e indipendenti, cosa che sarebbe stata più difficoltosa accettando l'altra. D'altronde, andando a leggere il bilancio della società rappresentata da Grasso, risultava più che evidente una differenza forza economica rispetto all'altro competitor, oltretutto con una serie di aspetti che i soci lavoratori, forse per loro ignoranza, non hanno compreso. Ci riferiamo, tanto per fare un esempio, ai debiti della società, notevolmente più alti dei ricavi, compensati da altrettanti crediti. È vero che il Consiglio di Amministrazione di metà settembre aveva privilegiato la proposta di Grasso, ma la decisione non era stata assunta da tutti i consiglieri. Ma la scelta aspettava all'Assemblea dei Soci Lavoratori e non al Consiglio di Amministrazione, e la stragrande maggioranza dei soci, in maniera compatta, ha deciso diversamente dal Consiglio di Amministrazione. Insomma, se di Far West si può parlare, sempre per riprendere alcuni titoli sensazionalistici letti negli ultimi tempi, si può allora dire che la pistola più veloce a sparare è stata quella dei soci lavoratori, che hanno eliminato la proposta indigesta e scelto quella preferita, con buona pace di chi è scappato a cavallo più velocemente possibile dall'Assemblea. Una manifestazione per mandare un messaggio chiaro, dare voce a Giulia Cecchettin, giovane uccisa dal suo ex ragazzo, e permettere in chiaro il pensiero degli studenti sul fatto che queste azioni atroci vadano fermate. Quella organizzata nella mattinata di oggi dalla rete degli studenti medi di Civitavecchia, è che si è tenuta fuori dal liceo Guglielmotti. Un modo per ricordare inoltre che questo non è stato l'unico caso di femminicidio nel 2023. Le vittime addirittura sono 104, 104 donne uccise prima di Giulia Cecchettin. Gli studenti però non si fermano qui sabato a Roma, infatti in programma la manifestazione appunto per Giulia Cecchettin e per fronteggiare la violenza contro le donne organizzata dal Movimento Non Una Di Meno. È in programma venerdì alle 17 presso la Biblioteca Comunale di Civitavecchia il presidio letterario contro la violenza appunto sulle donne. L'iniziativa promossa dal gruppo di lettura Pagine di Cioccolata in collaborazione con il Comune di Civitavecchia, la Prologo di Civitavecchia e la Biblioteca Cialdi è pensata in occasione della celebrazione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre. Nello specifico l'incontro prevede la lettura di brani tratti da romanzi di autrici ed autori analizzati durante i percorsi di lettura e riguardanti il tema della violenza di genere. Ed ora passiamo ad una segnalazione che ci arriva dai paraggi della stazione ferroviaria. Un nostro lettore e telespettatore ci ha contattato per riferire del pericolo presente a causa della presenza di alcuni cartelloni pubblicitari pericolanti. Come si vede dalle foto che ci sono state inviate, la stecca di metallo si è staccata dal muro e rischia di colpire chi transita, in particolar modo turisti e pendolari che vanno a prendere il treno. La situazione andrebbe avanti addirittura da anni. Bene, termina qui la prima parte del nostro telegiornale, ma naturalmente rimanete sempre collegate qui insieme a noi perché tra poco ci saranno le notizie sportive. Grazie a tutti. Apriamo la pagina sportiva con il calcio. Torna il successo di Civitavecchia. Nell'Azzurri hanno battuto per 1-0 l'Ara Nova nella gara giocata Altamagnino. Una vittoria davvero importante per classifica e morale, arrivata a pochi minuti dal fischio finale. Nel primo tempo pochissime le emozioni con le due compagini consapevoli dell'alta posta in palio. Nella ripresa meglio il Civitavecchia che ha centrato un palo direttamente da calcio d'angolo con Sevieri e sfiorato il gol anche con Menghi. L'episodio decisivo è arrivato a tre minuti dalla fine quando Paolo Cerroni ha conquistato un calcio di rigore pesantissimo che Vittorini ha insaccato con freddezza. Vediamo l'intervista. Raffaele Scudieri, possiamo dire che l'esultanza finale e l'abbraccio finale fanno capire bene l'importanza di questa vittoria? Sì, perché è una vittoria, penso, meritata. È contro un ottimo avversario, squadra importante come l'Ara Nova. Veniamo da partita come domenica e ci ha lasciato tutti la mano in bocca. Stiamo cercando di migliorarci, stiamo cercando di migliorare una classifica che secondo me non ci compete. Chiaramente parla sempre il campo, quindi oggi punti sono questi. Cercheremo di far punti da qua alla fine per avere una classifica che è più consona, secondo me, a quello che è il blasone del Civitavecchio. Dopodiché però chiaramente conta quello che si vede in mezzo al campo. Squadra, io parlo per le partite dal 10 di ottobre quando sono arrivato. Questa è la nona, se non mi sbaglio, tra Coppa Italia e campionato. A detta vostra, a detta della mia presidenza, a detta dei giocatori, la prestazione che è sempre stata. Oggi abbiamo fatto, secondo me, un ottimo primo tempo e un secondo tempo straripante per quanto mi riguarda. Ripeto, la prestazione, secondo me, bisogna dare ancora più valore perché è fatta contro una squadra come l'Ara Nova che, ripeto, ha valori importanti, giocatori importanti. Secondo me è un collega molto capace perché l'ha messa, l'ha gestita molto bene la partita. Sapevamo che, avendo visto anche un po' la Coppa e le ultime partite di campionato in video, sapevamo che avrebbero fatto questo tipo di partita. Partita accorta, intelligente, pronta. Alla fine, poi, con l'entraia italiana, magari l'ha pensata pure di vincere perché noi magari stiamo spingendo tanto. Ma noi non abbiamo ne rischiato nulla, ma abbiamo altresì invece creato diverse opportunità. Poi non era facile perché loro, la linea difensiva loro, insomma, Pucci ha sempre fatto la categoria superiore. Germoni non c'entra niente con l'eccellenza. Penso che la prima volta che lo vedevo mi ha favorevolmente impressionato e non penso che sia di questa categoria. Siamo Frilli, che è un portiere che c'è un'esperienza a noi. Rustic, Massimiani, però, che è tutta gente navigata di esperienza che sta gestendo la partita come questa. Poi, chiaramente, noi in casa, quando gli spazi non ci sono, diventa poi più complicato perché le dimensioni sono strette e tutto quanto. Però abbiamo creato, abbiamo creato tanto. Poi, secondo noi, poteva venire anche prima col palo interno, con due o tre mischie nelle rigure, con Funari, con Cerone. Poi c'è stato un fischio che non sono d'accordo. Però, voglio dire, ripeto, alla fine vinciamo 1-0, siamo contenti, siamo stanchi, chiediamo stanchi, come forse lo sono anche i nostri avversari. Però, chiaramente, gioiamo perché il risultato ci premia. E l'unica brutta notizia è l'uscita dal campo di carta, visto che ci sono tanti impegni. Quali sono le sensazioni su questo infortunio? No, no, ma non penso che sia un problema. Io il cambio l'avrei fatto comunque perché Gianmarco, e ho preso io la decisione di farlo giocare, anche se era febbricitante, perlomeno fino a venerdì. Proprio perché c'è una partita importante, che ci teniamo, come teniamo a tutte le partite. Non c'è nessun problema che io sappia, non c'è problema, anzi, lui mi ha detto che non aveva chiesto il cambio, invece io gli ho spiegato che l'avrei fatto comunque. Passiamo al rugby. Il Moretti della Marta continua ad essere terra di conquista per le squadre ospiti. Nuovo stop è casalingo per il CRC nel campionato di Serie A. I biancorossi hanno perso per 16 a 6 contro il Firenze, ottenendo solo un punto di bonus difensivo. È stata una partita particolare, dove non è stata realizzata nessuna meta. Due volte avanti i toscani, due volte pareggia, tremulo prima del doppio affondo dei gigliati, che si portano a casa il successo. Con questa sconfitta, il 15 di Ambrogio Bona, resta lontano dalle posizioni importanti della classifica, che si stanno allontanando sempre più. Passiamo alla palla canestro. La SEM a 90 ritrova il gusto amaro della sconfitta a Roma. I rossoneri hanno perso per 69 a 61, contro Fonte in una gara con un punteggio basso, nella quale ogni canestro ha avuto la sua valenza. Un match partito in Sordina, con Campogiani e compagni che non sono riusciti a carburare, concedendo troppo spazio ai padroni di casa, che hanno chiuso i primi due quarti in vantaggio. Tutto però si è deciso nel corso degli ultimi 5 minuti, nei quali, a differenza dei padroni di casa, la formazione rossonera è mancata lucidità, sia in attacco che in difesa. In evidenza comunque Spada, che ha totalizzato 15 punti. Passiamo al calcio a 5. Larga vittoria per la Futsal Academy nel campionato di C1. Nei Razzurri dimenticano le amarezze del derby, imponendosi all'Ivan e lottatori per 6 a 2 contro il Santos. Non è stata una gara particolarmente equilibrata, con il quintetto dello squalificato Umberto Di Maio, che ha subito sbloccato la situazione e poi allungato sulle 3 a 0. Non è meno il gol degli ospiti ha cambiato il verso, con i cevedacchiesi attenti a non farsi rimontare. Matatore di giornata ha un mondello in forma smagliante, autore addirittura di una tripletta. In rete anche Tersini, Mori e Sarracco. Con questa vittoria la Futsal Academy si conferma in zona play-off a meno 4 dalla vetta. Palla a volo, la Comal Civitavecchia Volley Academy prosegue nella sua tabella di marcia verso il primo posto del girone B di Serie C. Le arancionere hanno vinto senza grossi problemi per 3 a 0. Sul campo del Dream Team la vittoria non è stata mai in discussione. La vittoria consente al gruppo di Alessio Bignatelli di rimanere attaccato alla Lazio, che continua a guidare la classifica con un punto di vantaggio sulle Tigri. Prima sconfitta casalinga stagionale invece per la 3 e PC pallavolo di Civitavecchia al Palasport in Solera Tamagnini. Le rosso-blu sono state sconfitte con un secco 3 a 0 dal Cali. Il primo sette viene affrontato con un approccio non proprio massimale da parte delle rosso-blu che nonostante si riprendano nella seconda parte della contesa non riescono a strappare il punto alle Romane. Partenza sprint nel secondo parziale con il 6-1 di Giovanni Guidozzi avanti per 7-1. Poi però il meccanismo si inceppa e pian piano le ospiti recuperano tutti i punti di distacco. Nemmeno nel terzo spicchio di gara le cose cambiano. 9 punti per Belli, 6 per Paoli. Ok, weekend agrodolce per gli snipers tecno-alte in Serie B. Sabato i nerazzurri hanno espugnato il campo delle tre fontane di Roma battendo addirittura per 7 a 0. I mammut tripletta di Mandolfo che ha anche aperto le marcature. In golle anche Stefani, Michelangelo Tranquilli, Fabrizi, Mercuri. Debacle invece nel secondo impegno di ieri nel quale a Lido di Camaiore il quintetto di Martina Cavazzi è stato travolto dal Viareggio per 7 a 2. Inizio sciocche con i toscani che fanno tre reti nei primi due minuti di gara la quale è stata fortemente influenzata da questo fattore. In rete Novelli e Stefani. Con questo stop gli snipers tecno-alte sono quarti in classifica dopo essere stati superati appunto proprio dal Viareggio. Bene, termina qui la nostra edizione salaria del telegiornale. Naturalmente vi ringrazio per la gentile attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni. Buona serata.